Ora presento il nostro flagship sponsor che è Intel e do il benvenuto sul palco all'Andrea. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Thomas. È bellissimo, hai quanta energia a sentire gli SDC mentre si sale sul palco. È bellissimo vedere i nostri loghi, Intel e Red Data affiancati. Bene, Andrea Piccioni, sono in Intel e mi occupo prevalentemente di Internet of Things e di Artificial Intelligence. È un piacere per me essere qui e parlarvi della nostra partnership, una partnership che dura da 25 anni, che si basa su una serie di visioni tecnologiche congiunte, architetture open, architetture multi-cloud e architetture hybrid. Il tutto per poter abbracciare nella maniera migliore possibile i temi della digitalizzazione. Quindi vediamo un attimino su che cosa, su quelli sono i pilastri su cui abbiamo basato questa partnership. Primo pilastro, la collaborazione. Collaboriamo congiuntamente a condividere informazioni in una modalità di early adoption, quindi tecnicamente tre anni prima che le tecnologie vengano messe, immesse sul mercato e date a disposizione dei clienti finali. E questo ci consente di creare un processo di sviluppo della soluzione che sia attento e che segua in maniera precisa tutti gli step dell'integrazione tra le tecnologie hardware da una parte e software dall'altra parte. E poi, sempre in ambito collaborazione, non è un segreto che Intel è numero uno per contribuzione al kernel Linux. E questa partnership con Red Hat ci pone in una condizione ottimale per poter contribuire all'open source. E non è altrettanto un segreto che come Intel abbiamo 20.000 software developer che lavorano con aziende come Red Hat per poter creare delle soluzioni ottimali da mettere sul mercato. Secondo componente della relazione, la parte di build. Andiamo a costruire architetture open, architetture edge che facciano leva sulle componenti architetturali hardware più performanti, quindi dalla parte edge alla parte cloud. Ed infine la parte di execution. È un onore ed è un orgoglio aver sentito recentemente il nostro CEO Pat Gelsinger dire che la partnership Intel e Red Hat è il cuore pulsante del mondo dell'open source. Ora, vediamo un attimino qual è la visione che abbiamo della nostra architettura open and hybrid. È un'architettura che vediamo standardizzata e che quindi va nell'ottica di creare delle soluzioni che possono andare bene dall'edge al cloud. Supportata e testata perché il nostro mantra è avere delle tecnologie che possano avere un processo di validazione estremamente accurato e che possano essere gestite in maniera ottimale anche dal punto di vista della sicurezza. Supportata dai partner, quindi dagli hyperscaler, IBM, Microsoft Azure, AWS, Google Cloud e tutti i partner hardware che ci seguono nello sviluppo delle soluzioni. Flessibili ed interoperabili. Il tutto per avere come obiettivo la costruzione di architetture e soluzioni che siano software defined, il software è l'anima, silicon enhanced, il silicio, il microprocessore è la base su cui andare a eseguire tutti i carichi computazionali. Adesso vediamo un paio di esempi. Un esempio tecnico ed un esempio più a livello di business di come abbiamo in qualche modo messo a terra questa partnership. Ecco l'esempio tecnico. L'esempio tecnico è quello che è stato rilasciato ultimamente. L'open shift, la componente open shift for data science abilitata da quello che è la tecnologia Intel. Tecnologia in questo caso sia hardware che software. Quindi abbiamo lavorato congiuntamente per sviluppare un framework che possa aiutare gli sviluppatori di software di artificial intelligence a poter sfruttare al massimo tutte le caratteristiche delle componenti che abbiamo rilasciato congiuntamente. Quindi one API, ovvero tutto l'aggregato di componenti e di architetture software per high performance computing e per artificial intelligence. Quindi con librerie ottimizzate per Python. OpenVINO, il nostro componente che è in grado di ottimizzare a prescindere dall'hardware sottostante l'esecuzione di carichi di inference. Quindi ottimizzare l'inference di modelli di machine learning e di deep learning. Il tutto per andare a sfruttare sulla base tutti quelli che sono gli ultimi ritrovati tecnologici dei microprocessori. Quindi dalle GPU fino alle classiche CPU con grafica integrata, gli FPGA e alle VPU. E recentemente abbiamo lanciato l'integrazione con AWS su cui ci sono delle istanze che utilizzano Abana Gaudi, il nostro nuovo microprocessore studiato e progettato appositamente per eseguire carichi computazionali di training e di inference con delle performance mai viste. Adesso andiamo a vedere quello che è l'esempio legato alla parte di business. È ormai noto a tutti, e soprattutto in questo periodo, che il tema energetico è un tema che sta a cuore. Quindi la digitalizzazione delle aziende in ambito energy è un qualche cosa che deve essere perseguito per ottenere efficienza e per poter ottenere scalabilità. Dal nostro punto di vista abbiamo lavorato a stretto contatto con Minsight e con Red Hat per costruire una soluzione di digitalizzazione che potesse far leva su tutta la parte di virtualizzazione lato edge e che potesse lavorare molto bene in termini real time, quindi con delle tecnologie che lato edge sono l'ultimo ritrovato tecnologico. Il tutto ci ha consentito di ottenere due grossi risultati. Riduzione dei tempi di mantenimento e il secondo risultato, miglioramento del time to market, quindi della risposta che l'azienda può mettere sul campo per andare a soddisfare i propri clienti. Ecco, abbiamo visto in che cosa si articola questa partnership, però adesso vediamo come assieme siamo in grado di andare ad indirizzare i quattro superpoteri della digitalizzazione. Edge, 5G, Cloud e Artificial Intelligence, i superpoteri che ogni azienda dovrebbe avere per poter eccellere nella digital transformation. Nella parte edge, come abbiamo detto, architetture x86 ad alte performance e che possano eseguire qualsiasi tipo di carico computazionale, architetture che possano supportare carichi computazionali open e software open. 5G, lavoro fatto ad esempio con HPE per la realizzazione dello stack cloud 5G. Soluzioni cloud, quindi soluzioni ibride, iperconvergenti e che possano sfruttare tutte le caratteristiche degli ambienti cloud e che possano essere agnostiche dal punto di vista dell'adozione dell'ambiente cloud per il cliente finale. Ed infine, come avevamo detto prima, artificial intelligence. Artificial intelligence è il mantra, è quello che serve alle aziende per poter eccellere, per poter sfruttare tutto quello che è il valore dei dati che viene raccolto e viene prodotto. E in questo caso, come abbiamo visto prima, l'architettura OpenShift for data science abilitata dalla tecnologia Intel. Ecco, per andare a ricapitolare e a riassumere e a chiudere con il mio intervento, mi piace poter vedere su questa proiezione quanti sono i benefici che possiamo mettere sul campo. Quindi, mi piacerebbe elencarne tre, i miei tre preferiti. Accelerated time to market, quindi attraverso la nostra partnership con la nostra tecnologia, siamo in grado di accorciare il tempo di realizzazione delle soluzioni, avendo delle soluzioni che sono prevalidate e che sono robuste per essere indirizzate su qualsiasi tipo di scenario. Contribuzione to open source community, quindi la nostra contribuzione è quello che è il cuore pulsante della nostra relazione ed è quello in cui noi crediamo fermamente per poter sviluppare il mercato. Transformational technologies, quindi tecnologie che siano in grado di trasformare il business e di abbracciare nella maniera migliore possibile la digitalizzazione, esempio l'artificial intelligence come ci dicevamo prima. Ed infine aggiungiamo un quarto aspetto che per me è sempre molto importante che è la realizzazione di infrastrutture che siano sicure, supportate e soprattutto enterprise grade. E con questo io concludo, vi ringrazio molto per l'attenzione, non esitate a contattarmi, a farmi domande, qua ci sono i miei riferimenti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.